Siamo entrati nel pieno delle festività pasquali. Tra il mercoledì e il giovedì santo ci si adopera per preparare il dolce di Pasqua più amato della tradizione napoletana, la pastiera. Siamo andati presso la pasticceria Marano di Giuliano per seguire la preparazione di questa prelibatezza della pasticceria napoletana. La pastiera è un dolce tipico napoletano, prima si prepara il grano con i successivi ingredienti e poi viene messo nei ruoti dove vengono ricoperti con pasta a frolla. Questa è la pasta a frolla che viene rigorosamente impassata con il burro. Questo è il taglio delle strisce per la decorazione. Sono pronte per essere infornate. Quanto tempo faranno? Circa un'oretta. La pastiera è sempre la pastiera.